ma non mi ha fatto alterare mi stai facendo alterare a me nessuno mi ha truffato e certo nessuno mi ha truffato rifatti io farò la storia la storia la storia oh fra guarda cazzo zitto guarda la mia caviola la vedi quel pisadone si si come il mio tale e quale proprio allora vi spiego una semplice regola che c'è nella mia base cazzo dice allora io tengo esattamente tanti notturni visto che mi ha truffato ma si è riuscito a raccogliere 40 no io ti propongo qualche metro fatto va bene hai vinto tu l'hai ammessa mi fai parlare per piacere no no si si stavo scherzando voglio fare uno scambio serie cottelli io sto il mio mentale tu mi do il tuo mentale perché perché siamo amici no e quindi per confermare queste amicizie non siamo amici no 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 ma che c'entra ma che ti caga non sei nessuno ma vabbè ma io voglio essere un amico dove essere un amico no sei solo un pallito io sì comunque lo faccio questo scambio di inventare tutto bene io ho il tuo mentale io ho il mio mentale tu ho il tuo mentale ok ma troppo in un altro questi amici poi c'è da fare qualche partita su fatto e poi c'è ma chi lo vuole fare una partita con tia ea tanta gente tutti falliti fate falliti ascoltare il best franco mia che ti cerca allora io tengo tante c'è c'è 140 anni quanto armi ma come 140 si è tu non mi hai preso prima di 6 120 sono in dotture di capo di me va bene si dai troppo troppo non di noi che ci permessi che voglio non voglio dai paure tiene paura bravo non ti prego tanto mentre foto già la della gloria c'erai non poter farmi ma che trovi con me olturni a tenere un fornire della migliaia sta città 4 omo in patente per me come sto fa ok è troppo macchina sempre credibile allora vai l'angolo troppo perché che mai permessi io ti troppo non apro tanto si apro ci mettono per me sì tanto non tanto non apre tanto non mi conviene aprire però perché se apri tu mi conviene aprire tu mi conviene aprire più troppo 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 quando è finito di troppare tra piscano che è un attimo solo portare per in mano ma non bello sai sai ha differnuto per me io ti vedo che sei andata che cazzo chiuso all'interno tutto a posto perfetto guarda qua guarda qua stanno ancora cadendo guarda le armi piovono dal cielo piovono dal cielo le armi guarda stanno piovendo le armi perchè non vieni a prenderle stanno piovendo le armi mamma mia stanno piovendo le armi stanno piovendo le armi dammi permesso un attimo devi fare una racconto stanno piovendo un pò di armi ooo un attimo un attimo un attimo un attimo non ciao ciao apri 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 no non mi fido i falliti ancora apri 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 sceghe da biva apri ha che è inutile ma ciao ma che è successo diventi ancora al metro fatto che vanti ancora o ridarmi le armi di ci questo ridarmi le armi questa che ha detto di ridarmi le armi non penso praticamente non mi va se volevo oggi una monoframe scotch dovremmeno che ci sentiamo ma non è ancora una cosa che non faccio valentare un po' il suo raccoglamento in careri posso spiegare una cosa no no ti sei vantato per questi cinque minuti che mi troffa basta e per zitto ma ti trufferò adoro definita e per subito di mentale e per sconfitto avuto la torre vincito e filola perché non ha avuto la mia un bacione no no guarda che ancora le tengo di almi le tengo ciao electro faccio ragazzi è come per l'altra volta e mi seguire su istrame entro oggi vi regalerò questi anni ciao Grazie per la visione!